Eccoci qui! Buonasera e benvenute da Martina e Giusy di www.movimaggi.it Oggi è giovedì 4 novembre e sono all'incirca alle ore 19.45 Ci troviamo insieme per spacchettare idee per creare i pannelli in pannolenci che si tagliano e si cuciono Non siete capaci a cucire direte voi? Non fa niente perché potete tagliare, incollare Sono pannelli stampati in alta definizione, ok? Ok! Ecco che vedo Maria Rosaria! Ciao Maria Rosaria! Ah no, Federica dice solo la prima! Ciao Federica! Ciao Faustina, ben arrivata! Io intanto faccio un po' la vestizione eh! E salutiamo la ragazza di Pescara che non mi ricordo come si chiama Puoi stare a guardare a Darfurman e rientro da Pescara! Esatto! Ecco! Ciao Amalia! Ah, Maria Rosaria dice solo la seconda! Ciao Patrizia! Ciao Francesca! Ciao Maria Pia! Ciao Incoronata! Ciao Loredana! Daniela! Ciao! Aspettiamo che arriva qualcuno e iniziamo Quanti siamo? Siamo 30 Eeeh... Stanno tutte a cucinare giù Luciana dice presente Ciao Luciana! Luisa! Ciao! Ciao! Avete già cucinato voi? Noi no! Ciao Carmen! Carmen di Setteville! Ciao Carmen di Setteville! Maria Rosaria Marti sempre bella con sto ciuffo! Loredana dice ditemi che sono i pannelli Sì! Ciao Patrizia! E io ho detto Giusei ditemi che c'è qualcosa per me Lo scoprirai! Ciao Isabella! Ma risposto lo scoprirai! Ah Federica ha già mangiato Brava! Fa freddo! Daniela dice onorario o culinario Ciao Isangela Ciao Carla fanno rumore si quanti ciao azzurra ciao terri e con terri mi fate dire tutte insieme luisa io stasera faccio sciopero non cucino cucina mia figlia brava senti quante siamo 45 si va l'arte si guarderanno dopo cena la differita che trovano su facebook ma pure sul canale youtube basta scrivere la casella cerca la parola mogi magi allora moltanti degli tube che dicono cliccate la campanellina così avvertiamo quando esce un video nuovo ragazzi io non lo dico perché nato voglia la campanella non sta la campanella non stessando sta allora fate l'uomo per fare insomma se vi volete scrivere scrivete se trovate la campanella della campanella se non volete pagnette nella casella cerca scrivete mogi magi ve uscimo lo stesso ok ma comunque che a condivisione del video è totalmente libera fate come vi pare dice ma io posso preparare la cena ma voglio rivedere dopo condividilo sul profilo 2 oppure te lo sarvi in bacheca così dopo lo trovi nei video salvati lo poi rivede quando te pare oppure non lo sarvi non lo condividi ma arrivai sulla pagina facebook nostra e lo rivedi tante cose se possono fare ok e isangela la ragazza di pescara isangela ciao luana ciao maria teresa grazie per essere venuta la campanella sta accanto al vostro nome nome per le notifiche ecco perché io la vedo perché sono la padrona del nome vabbè insomma siete più prati che fate voi allora iniziamo spacchettamento isangela ma mica sei col volume dentro al pullman cioè che vergogna di immagini allora iniziamo lo spacchettamento e idee per creare e si va avete luisa dice che ho condiviso sulla mia pagina e cioè se come vuoi fare se diceva io non posso motori vede dopo come faccia ritrovarlo allora se spinge condividi sul tuo profilo o doveva oppure ve lo mannate su messenger fate voi siete più bravi di me ciao tosella ciao maria se no ci guardate in diretta è meglio no ah no isangela è la ragazza di prampedusa scusa scusa allora no la ragazza di pescara non mi ricordo bellissima comunque ci ha fatto piacere conoscere sì esatto 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 oggi giornata di conoscenze sì esatto perché era venuta questa prima di te questa ragazza di pescara doveva prendere il pullman poi daniela pacco arrivato grazie ragazze grazie a te daniela per avercelo detto allora come diceva per te che oggi giusi ma storato gabberte una giornata di bertesi siamo fatte giusi c'è pure una fattura per grazie è tutto il in una barca vai si parte allora questo è un pannello in feltro due millimetri rappresentante pupazzo di neve ecco qua so rigidi rimangono tosti da soli ok quindi tagliate assemblate come vi pare ci volete mettere il cappello ci mettete il cappello ci volete mettere il beretto e babbo natale ci mettete il beretto e babbo natale uno con la tazza uno senza tazza uno con regalo uno senza regalo fate come volete questi non ci hanno bisogno manco di essere cuciti o incollati tra di loro perché è feltro due millimetri rigido ok ok e costa di meno costa mi sembra dieci vuoi dire ogni tanto qualcosina so andiamo avanti finalmente direi perché giusi la mia cara giusi e questo mo lo dico pubblicamente ma aveva bloccato il tutorial della presina e dello spara pifferi perché perché non ci avevamo più questo pannello qui che è il pannello villaggio natalizio bellissimo villaggio capi ha detto ma che cosa ti metti a fare adesso questi tutorial se dopo le signore lo cercano non lo trovano giusi mu è tornato cara quindi vuol dire che questo weekend ve subite tu e tutte quante fresina e sparaviferi ecco qua sparaviferi o come si dice spara spifferi allora villaggio capri bello coloratino innevato quindi natalizio con aggiunta di abeti ecco qua bellissimo queste panno lenci e costa 15 euro stendiamo i panni già gabriella ciao sandrina ciao sandrina sandrina che oggi mi è uscito oggi è il tuo anniversario se follower di moghi maggi da cinque anni grazie 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 ok la prima fan la prima fan poi mi bruto il naso sfere natalizie da 12 centimetri color bordeaux se non riuscite a guardare tutti i soggetti in questo momento in diretta vi ricordo che trovate tutti i pannelli su www.magimagi.it con descrizione e prezzi ok andrà sul sito a da un'occhiatina non implica che voi dovete comprare cioè andate pure a sbircià capito giusto giusi esatto francesca dice quindi ci vediamo ci rivediamo questo weekend domani si spacchettava essene ragà ciao laura ben arrivata poi sfere effetto pizzo color ghiaccio da 12 centimetri ok ciao stefania isaura appena finito un centrotavola natalizio col cerchio metallico della stafile comunque gli anelli metallici perché tu sei molto brava si adesso dopo dopo lo metto sul gruppo poi sfere natalizie bordò come quelle che se siamo appena viste ma da 10 centimetri vada se che la grandezza del pannello rimane la stessa quindi che vuol dire che 10 centimetri viene una bella sfera però comunque ne trovate di più questo oggi era il discorso che stavamo a fa sì no per fare il catino giusto con isangelo con isangelo cioè spendete 15 euro però ci avete un botto di cose da fa carino angelo ecco qua ciao pina katia dice come si fa sbirciare il sito senza desiderare di comprare tutto è quello è certo a chi lo dici tante volte pure io mi vado a vedere perché non 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 sto a prestare spacchettamente pure se so io che spacchetto isaura chiede non ci sono più i cerchi si si ci sono ci sono poi due angioletti con grembiule natività dice che vuol dire grembiule natività che ci hanno proprio stampato artezza panza la natività ecco qua sotto angioletti alti una da 25 centimetri una da 35 centimetri e so tutte e due femmine pensate un po fai vedere come viene vengono così il pannello eccolo qui sono bei pezzoni da tagliare ok azzurra dice li voglio tutti patrizia ciao da patrizia e rebecca ciao ciao rebecca poi questo è a questo non ce l'avevamo noi è il trittico da angioletti nati ce l'avevamo ma è il trittico da angioletti due femmine un maschio dei 25 centimetri tutte e tre qua una roscia la bionda e moro carino sì tanto ok sono poi i faccini dolci come me scherzo io per carità poi ci abbiamo l'elfo mega galattico questo è alto metà di minipote lena è alto 40 centimetri ecco qua quindi è alto due mani del marito di gisa 40 centimetri esatto ecco guarda come viene l'elfone sì cioè è una branda è una branda guarda il cappello quanto è grande è una branda comunque gisa ci sta guardando dalla macchina brava gisa silvia chiede ma se non ho mai usato questi pannelli mi dite come si usano al volo al volo facilissimo tagli metti a doppio con un panno lenci tinta unita oppure se lo richiede col panno lenci già stampato qua tagli metti a doppio cuci e imbottisci tagli metti a doppio incolli e imbottisci facile poi è facile ma di grande effetto uh quanto mi è piaciuta questa l'altra non c'ho avuto il tempo di falla simonetta la fece però bellissima ti ricordi? sì la ghirlandona betlemme ecco qua c'è qua oltre alla natività c'avete i pecorelli e il pastori e le magie no ma io non zooma sulle pecorelli sono troppo carino io sto spiegando ecco ecco carino e in più la nostra carissima del aire questo è considerato che gli avanzava lo spazio che faccio lo lascio a bianco o no guardate che ci ha messo due presine una qua e una in cima bellissimo bellissimo ciao paola ah Elena l'ha fatto l'elfo e gli è venuto 52 cm ma davvero wow settima mandaci la foto sì sapete che voi gente potete parlare liberamente sul gruppo video tutorial moghi maggio sapete sì chi no sa mo sa allora pannello sferina natalizie 12 cm crema per un caldo natale crema e bordeaux a morte sua eh ah vedi Federica dice non lo sapevo ha visto? Laura non è niente pronto per vedere come vengono e ciò davanti Laura cara comunque se vai su youtube scrivi idee per creare esce proprio l'ideatrice dei pannelli che spiega come si fa poi no che carini guardate mille e mille gingerini c'è sa tantissimi sì no vabbè tipo 12-13 ginger bellissimo bellissimo sì la base legno per il presepe lo sai che non ricordo se è terminata o meno Luisa chiede il supporto e il legno non lo ricordo no non lo ricordo poi gingeroni i genitori questi sono i genitori sono tre o quattro sono tre tre completi sono tre e alti alti venti no sì ventisei centimetri grossi grossi e cicciottoni Federica dice questi pannelli sono una trovata unica sì sono troppo belli troppo belli ma oltre la trovata c'è anche da dire che i disegni sono bellissimi stampa è un'altra definizione che te lo dica a fare la stampa è spettacolare sono unici poi no questo lo voglio wow raga prossimo tutorial guardate so le casette di pan di zenzero vabbè poi c'è scritta qui ma con questo ci si fanno un portatovaglioli eh no vabbè bellissimo io l'altro anno la feci cioè ti ricordi era misto c'è stavano i gingerini con la casetta sì la casetta io per casa nostra ci ho fatto il portatovaglioli ma quest'anno se lo fanno in diretta va bene uno è mio ok ti ricordate le vammelo ok isaura chiede quanto misurano gli uomini di pan di zenzero piccoli ma saranno un tredici sono dodici sono dodici tredici centimetri saranno poi comunque sul sito c'è scritto www.mokimagi.it classicone gli elfetti in un pannello ne trovate tre e sono alti 28 centimetri belli ok carina franca dice stupendissimi quasi quanto voi carina mamma mia allora ci manca l'ultimo pannello da spacchettà che non lo conosco ma ho finito le stappelle vado a piana stappella arrivo subito ciao Elisabetta ciao Marzia datemi volare un tanto va ehi che ore è isaura se la ride ad occhio e croce si sono proprio belli 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 qui ancora è allora la prima è Katia dice le 20.05 20.05 comunque i pannelli costano 15 euro per un prezzo fisso ultimo pannello adesso ho tutte presine del presepe si presine del presepe si no è troppo piccolo per essere una presina che c'è scritto quadretto betlemme top eh ci puoi fare pure la presina la gente ci fa quello che gli pare lo vuoi capire ecco ok dove d'ana ma allora sabato mattina siete aperti altrimenti vengo domani pomeriggio ci vediamo domani pomeriggio perché questo sabato io mi devo fare la presina via lo volete capire eh devo andare avanti io già ho sviluppato la stella di Saturno ragazze eh voi state indietro io sto andando avanti eh allora carrellata con me signora siamo pronte siamo pronte siamo pronte siamo pronte paesaggio capri innevato natalizio è ok sfere di natale 12 cm bordo è ok sfere di natale 12 cm ghiaccio effetto pizzo è ok sfere di natale 10 cm bordo è ok è ok due angioletti femmine alti con natività in panza è ok tre angioletti due maschi e due femmine e un maschio è ok elfo mega galattico altissimo è ok ghirlandona betlemme questa merita affidate beh è ok sfere natalizie 12 cm 12 cm crema effetto pizzo è ok ok gingerini solo gingerini occhi e croce 12 cm e ok padre madre e amante dei gingerini appena visti altissimi e ok pannello solo casette pan di zenzero più la scritta auguri e ok tre elfi seduti in piedi che corrono che corrono che camminano che metteteli come volete e ok pannello quadretto betlemme barra presina e ok barra presina e ok eccoci qua e ok allora ragazzi allora ragazzi noi vi salutiamo perché già erano i 20 e 05 ora saremo andati avanti quindi grazie ancora per essere state con noi un bacio grande da Martina e Giussi di www.pokimaggi.it se vediamo domani sempre in chiusura ciao belle ciao ciao ciao